benissimo senti sindaca sono solo io in videoconferenza va bene grazie va bene va bene va bene va molto bene anzi lo dobbiamo preservare sempre quando si voglio avvisare penso che bisogna sempre passare attraverso voi qua non è una questione di forza di ordinanze di difficile qui abbiamo nelle mani il lavoro delle persone brava grazie grazie si hai ragione hai ragione casambulanti e unipuglia siamo con giuseppe tricarico anche nostro referente il vostro e il nostro anche caro amico collaboratore mi credo che adesso l'ho imparato a tutti i rappresentanti che sono qui nelle potele apprezzate delle cittadini della natura appunto dei mercatani ci sono anche la possibilità degli uffici leo abbiamo la stessa ora per quanto riguarda la parte locale allora il primo oggetto è unico e poi però magari allargiamo anche la distruzione a tutto il mercato è relativo alla messa di sicurezza e al controllo del settore a dimontare visto che il 24 prendiamo la testuga abbiamo la testuga abbiamo a disposizione praticamente che si è diventano 51-52 miliari che in base a che sono fatte anche che ho disegnato ancora partendo praticamente come c'era la fila da Pinoce si si sto ascoltando ok due metri di distanza dall'alto iniziamo a partire da l'alto al muro perché c'è il palazzetto ingresso dal palazzetto introdge alla sua la sua posizionando il nuovo canse di una attività della palazzetta civile che vanno ad ad arricchettare respirando un interno e è una parte per passare la distanza che c'è sul largo quindi andiamo a finire azioni a semicerchio fino davanti all'Unerisco Allora Lalla intanto ti faccio una domanda voi avete avuto già interlocuzione con il prefetto Valiante su questa cosa? No, noi domani mattina abbiamo incontro Allora domani mattina il prefetto Sì domani mattina il prefetto vi informerà e vi aggiornerà sui tavoli di concertazione che sono stati avviati quindi io ho avuto interlocuzione con l'ufficio di segreteria del prefetto quindi mi ha chiamato il dottor Raiello che sta predisponendo il tavolo per le aree mercatali e per il commercio sulle aree pubbliche quindi al momento anche dalla lettura del DPCM vengono suscitate tantissime perplessità perché come anche tu hai modo di constatare mentre per poche postazioni di vendita tipo quelle alimentari di cui stiamo parlando la condizione è gestibile quando si parla di un numero importante di operatori e di postazioni la cosa diventa molto più complessa non solo dal punto di vista logistico ma anche proprio per la operatività dei commercianti per esempio la perimetrazione dell'area rappresenta sicuramente una grandissima difficoltà operativa perché come si fa in un mercato come quello dove ci sono per esempio qualche centinaia di operatori quindi noi abbiamo necessità di stabilire comunque delle regole che valgano per tutti i comuni perché non possiamo peraltro stare a rincorrere davvero situazioni che potrebbero rivelarsi ingestibili né tantomeno possiamo creare situazioni di disagio agli operatori che magari in un'area territoriale si trovano a non dover esercitare l'attività e in altri territori sì noi per questo abbiamo e fortemente ribadiamo la necessità che venga riconosciuto il disagio di questa categoria quindi la nostra proposta di riconoscimento di categoria disagiata e noi all'interno di quelle aree mercatali così come saranno riorganizzate ovviamente abbiamo necessità di operare però dobbiamo avere consapevolezza che si tratta di una operatività improduttiva che comporterà molto spesso soltanto dei costi per gli operatori quindi abbiamo come succederà per i bar tra l'altro come succederà per quelle attività però la condizione che noi abbiamo chiesta ovviamente riguarda altri enti la regione Puglia laddove stiamo interloquendo e andremo ad interloquire per il riconoscimento di questi indennizi che abbiamo chiesto quindi per quanto riguarda l'area mercatale Lalla io ti consiglio domani mattina voi avrete questa interlocuzione col prefetto tu come hai fatto egregiamente nella riunione dell'8 marzo a mezzogiorno quella domenica famosa avrai la sensibilità con tutti gli altri amici sindaci quindi con il dottor Tufariello ma anche con i sindaci degli altri comuni di porre questa questione ti prego di sollecitare il prefetto a riunire subito il nostro tavolo di concertazione perché lui ci ha garantito che lo avrebbe riunito in modo tale che davvero noi responsabilmente non abbiamo alcuna intenzione di scaricare su ciascun sindaco questa enorme responsabilità quindi se avessimo voluto fare la parte di chi sta alla finestra avremmo detto sbattetevi questa cosa e fateci sapere noi invece siamo consapevoli e responsabili che siamo parte attiva in questo procedimento però attenzione lo ribadiamo la condizione è molto molto delicata perché il mercato di per sé è una forma di aggregazione che trova nell'aggregazione sociale la vita del mercato è aggregazione è la sua essenza quindi noi dobbiamo avere anche il vostro supporto quello dei sindaci ecco perché io ho scritto anche a Lanci Nazionale i sindaci ci devono supportare presso le istituzioni dicendo e affermando che comunque noi stiamo avendo grandissimi disagi e allora dobbiamo essere risarciti perché non è un fatto economico è un problema di sopravvivenza cara sindaca si tratta della sopravvivenza di 20.000 imprese e noi abbiamo il dovere di tutelarle condivido pienamente grazie grazie a voi disponibili sempre grazie a voi con noi questa prima apertura del mercato ti faremo sapere un po' come è andata come andrà la sperimentazione io ringrazio tutti i presenti che si stanno mettendo grazie saluto tutti saluto davvero tutti sicuramente a 360 gradi io domani solleciterò il presento e lo sento oltre che il fatto che tu me l'abbia nuovamente sollecitato grazie quindi ti saluto grazie buona giornata saluti a tutti arrivederci ciao Lara ciao arrivederci sindaca grazie a tutti